A Silinido, classi primavera e scuola dell'infanzia gratuiti per tutti i bambini della Basilicata e quanto prevede una proposta di legge sul sistema regionale integrato di educazione, istruzione e servizi sociali per l'infanzia predisposta dal garante dell'infanzia e dell'adolescenza Vincenzo Giuliano. In una conferenza stampa presente anche il presidente della quarta commissione consigliare Luigi Bradascio il garante ha illustrato i contenuti della proposta elaborata da un tavolo tecnico con il contributo dei sindaci di Bella, Potenza e Venusa e dei rappresentanti delle sezioni Primavera e degli Asilinido operanti sul territorio. Il perché di questa proposta ce lo spiega il garante dell'infanzia Vincenzo Giuliano. Nasce dalle sollecitazioni delle famiglie, dalle elementele delle famiglie che non possono sostenere le rette per l'esosità del costo ma nasce anche dalla richiesta pressante dei comuni che hanno partecipato col garante ad elaborare questa proposta per poter addivenire ad uno strumento tale che consentisse loro di dare assistenza, di dare qualità della vita e di investire sui giovani anche per avere una ricaduta in termini finanziari, di investimento finanziario per percorsi virtuosi rispetto a delle patologie che da un punto di vista sanitario in questi anni che vengono manifestati ma che non sempre le famiglie sono in grado di decodificarle. Andremo a dare assistenza per oltre 26 mila bambini con una ricaduta occupazionale anche indorna a mille persone per cui diventerebbe un qualche cosa su cui bisognerebbe fare maggiore attenzione per poter addivenire ad una qualità della vita partendo anche dalla esigenza di lavoro e che nella nostra regione c'è in maniera pressante.